La dipendenza dalla droga come un vortice in cui cade non solo chi ne risulta vittima, ma anche i suoi familiari. Nella maggior parte dei casi i genitori, che diventano preda di figli resi aggressivi dall'astinenza, egoisti, violenti, e allora quelle madri e quei padri, dopo le vessazioni subite, sono costretti spesso a denunciare i loro ragazzi, vedendo nel carcere una prigione meno dura di quella che un assuntore di sostanze si costruisce idealmente attorno a sé. Non è finito in carcere, ma in una comunità di recupero il giovane Campobassano arrestato nelle scorse ore dalla squadra mobile. I poliziotti, indagando sul suo caso, hanno ricostruito un quadro sociale drammatico in cui le vittime erano tre. Il ragazzo, che deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e distorsione in piena emergenza Covid, quindi nonostante vigessero rigide restrizioni alla circolazione, costringeva il padre ad accompagnarlo a comprare le dosi, anche più volte al giorno. I soldi, invece, se li faceva dare dalla madre, la donna non poteva fare altro che ricaricare la poste pay del figlio perché, dopo diversi no, arrivavano pesanti minacce. Una situazione senza uscita in cui i tentativi di aiuto da parte dei genitori erano sempre risultati vani. Ora questo giovane ha la possibilità di uscire dal tunnel, avendo anche dichiarato di voler chiudere con la droga. Al termine delle indagini della polizia, la procura ha richiesto per due volte l'applicazione della custodia in carcere. Il GIP le ha rigettate entrambe, mentre il riesame ha accolto il ricorso degli inquirenti e ha disposto i domiciliari nel centro di recupero. L'applicazione della misura cautelare in comunità, spiega il procuratore capo Nicola D'Angelo, rende auspicabile che l'indagato col tempo torni ad essere un soggetto persona e non più un oggetto in balia della dipendenza, che la sua famiglia possa riacquistare parte della serenità perduta e che tutto questo possa contribuire a ridurre il consumo di stupefacenti sulla piazza locale, prima causa del moltiplicarsi dei fenomeni criminosi e dell'interessamento della criminalità di tipo mafioso sul territorio. Grazie. Grazie.